Mercoledì 25 ottobre dobbiamo tutti insieme scendere in piazza a Roma per dire basta. Dobbiamo farlo perché questa volta l'arroganza di questi partiti e di questa classe politica ha raggiunto il limite. La legge che abolisce i vitalizi è ferma in Senato e lì la faranno morire. L'approvazione a luglio alla Camera era tutto un blef, un contentino per farci stare buoni. La verità è che non stanno abolendo un bel niente. Si stanno tenendo stretti i vitalizi così come si tengono gli stipendi da 15.000 euro e le auto blu. In questi mesi ci hanno solo preso in giro. Sono arroganti e pensano di essere anche furbi, ma io non ci sto e so che non ci state nemmeno voi. I partiti che a luglio hanno approvato alla Camera la legge che cancella i vitalizi ora devono fare lo stesso anche al Senato. Non ci sono scuse perché qui fuori, fuori da quei palazzi non è più tempo per i privilegi. Voi fate sacrifici e li devono fare anche i politici. All'oro dei vostri sacrifici non interessa nulla. Pensano soltanto al vitalizio e alla poltrona. Ed è per questo che si stanno approvando la terza legge elettorale incostituzionale. Una legge che favorisce le ammucchiate e penalizza l'unica forza che ha il coraggio di presentarsi da sola. E che da sola rappresenta la prima forza politica del Paese, cioè il Movimento 5 Stelle. A noi questo non preoccupa. Anzi, ci sentiamo ancora più forti. Siamo però preoccupati per il voto di quei 9 milioni di italiani che dal Movimento 5 Stelle si sentono rappresentati. Perché con questa legge quel voto varrà meno degli elettori degli altri partiti. E chi non vota per il Movimento 5 Stelle si deve preoccupare. Perché con il Rosatellum il suo voto ad una lista potrebbe finire col farne vincere un'altra. E perché se sceglie un candidato il rischio è che ne venga eletto un altro. Con questa legge elettorale l'Italia ripiomba nel passato. Quando comandavano i segretari di partito e i governi venivano ricattati dai partitini. Non a caso Clemente Mastella ha detto di essere pronto a rientrare in campo con il suo Udeo. Può farlo perché questa legge glielo permette. Ci ritroveremo con un Parlamento di nominati e di impresentabili. Gli stessi impresentabili che stiamo vedendo in Sicilia. Nelle liste che sostengono musumeci ci sono candidati con decine di capi di imputazione. Un ex sindaco arrestato per truffa. Nessuno di loro si vergogna di andare a chiedere il voto dei siciliani. Non si vergognano loro né musumeci che pur di vincere li ha accolti a braccia aperta nella sua accozzaglia. Loro si sentono al di sopra di tutto. E se ne fregano dei cittadini. Allora noi vogliamo fargli sentire la nostra voce. Giornali e Tg potranno silenziarci. Ma vi assicuro che se mercoledì 25 ottobre saremo tutti insieme davanti al Senato la nostra voce arriverà forte e chiara. Proviamo a abolire i vitalizi una volta per tutte e a fermare il rosatello.